Decisamente alta anche in provincia di Bolzano l'adesione allo sciopero generale di 24 ore dei medici di medicina generale proclamato dalle quattro organizzazioni di categoria SNAMI, FIMG, SMI e Intesa Sindacale. Per la provincia di Bolzano si è trattato del primo sciopero del settore degli ultimi 30 anni. Dei 285 medici sparsi su tutto il territorio provinciale ben 262 hanno tenuto chiuso gli ambulatori come prima forma di protesta per i tagli degli stipendi e per le politiche che dicono sono orientate esclusivamente ad una gestione contabile del Servizio Sanitario Nazionale. Sono contentissima e spero che i politici e tutti gli amministratori prendano in considerazione questo forte segnale dei medici di medicina generale. La cosa più importante che rivendichiamo è è salvare il medico di famiglia, salvare un sistema sanitario italiano, nazionale, che è uno dei sistemi sanitari, secondo la mia opinione, migliori di Europa e anche del mondo. Se speriamo noi, allora anche il cittadino non avrà più il suo medico di famiglia, non avrà più il rapporto di fiducia che ha col suo medico di famiglia e penso che questo sia un grande interesse, un grande desiderio di tutti i cittadini a mantenerlo. Messaggio per l'assessore Stocca? L'assessore Stocca cerchi di salvare la medicina generale sul territorio. La protesta dei medici ha visto comunque garantite le visite domiciliari urgenti e le forme di assistenza domiciliare programmata a malati terminali. La manifestazione in piazza a Bolzano, programmata per venerdì prossimo, non è stata autorizzata dalla garante per gli scioperi, ma, assicurano i sindacati, se nel frattempo le prospettive non cambieranno, verrà comunque fatta dopo le vacanze natalizie.